Per subito nel vivo della serata sarà il mio saluto e brevissimo. Non posso che apprezzare lo sforzo continuo di Rosanna e della sua associazione, della professoressa Josefina di Stasi, perché anche durante occasioni un po' più festaioli, comunque piacevoli alla tavola, sono capaci poi di trovare un momento di tensione importante, culturale con questo convegno e quindi devo dire che è bravo davvero, perché la capacità di creare questo parallelismo tra momenti di convivialità e momenti di approfondimento, in questo caso un momento di approfondimento storico, fa sì a tutti voi di essere orgogliosi di poter vivere e amministrare questo progetto. Quindi ai relatori grazie di essere venuti e sicuramente i nostri interventi ci arriccheranno e per quanto riguarda il sottoscritto copriranno moltissime lacune in materia storica e quindi sono qui ben attento a raccogliere le informazioni che ci arriveranno. Quindi davvero grazie, benvenuti a tutti e vedo anche tanti amici che vengono dai pezzi di signori, quindi da loro ancora un doppio benvenuto, sperando che poi durante, al termine del convegno, vorranno trattenersi con noi dal centro storico, un centro storico piacevolissimo, quindi dove Rosanna e Stasi, l'associazione, con i volontari dell'associazione, ha messo in campo una piacevolissima iniziativa. Quindi davvero grazie e buonasera a tutti. Grazie.